Ciao, creatura! Io sono Ecate Splendente, con i miei maglioni di Natale, e benvenuta o bentornata nel regno di... con la A-S-M-A. Sì, se è un maglioni di Natale, se mi segui su Instagram, se ancora non l'hai fatto, mi trovi con il nome Ecate Splendente, e sì, ho visto un sacco di haul che ho fatto. Buon anno nuovo, con un sacco di regali, non vedo l'ora di mostrarteli. Non so perché parlo così, però sono molto felice. Quindi ho questo maglione fantastico che mi sono comprata a un regalo di Natale, al mercato a 6€. Già, se mi segui su Instagram lo già l'avrei visto. Un bel like, condividi questo video, quello che ti pare, e iscriviti, 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 iscriviti al mio canale. Allora, non so con quale partire, perché mi piacciono tutti tantissimo, io partirei con queste calze che ho ricevuto, perché io quest'anno ho regalato un botto di calze, e le ho anche ricevute per fortuna, perché io adoro le calze, mi piace tanto regalarle, ma ne desideravo anche io, ho anche comprato quelle di Natale, ma questo non è il video haul dei miei acquisti, è il video dei regali, quindi questi sono i calzini che ho ricevuto con dei gatti simpaticissimi, gattini, gattini colorati. Questa è la marca, non so se riesce a leggerla, non la conoscevo, ma è molto bella, proprio delle belle fantasie, ho visto. Questa stecca di Ritter Sport al cioccolato, sì al cioccolato, cioccolato al latte, cos'è? Milk chocolate, cioccolato al latte, cioccolato. Poi in tema, non c'è giù, ho ricevuto anche questi biscotti, che sono dei cantucci, 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 al cioccolato, 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 Io e te? Io e te? Guarda, vedi? Io e te si chiama questo vino che è un vino bianco. Poi c'è questo vino rosso che si chiama... perché no? Cioè voglio dire, sembra chiaro. Perché no? Sto anche bene con il mio make-up. Perché no? Eh già, perché no? Io mi chiedo. Ti mostro una cosa di cui ho parlato in un video, il video di mercoledì, che avrai già visto sicuramente. Se non l'hai visto, perché no? C'è questo scrub per il viso. Sta bene anche con questo make-up. Sono tutti in tema, senza farlo apposta. C'è le ginger, quindi amarena e zenzero. Amarena e zenzero e ha una profumazione. Allora lo zenzero non si sente, per fortuna, perché a me non piace che lo mettono ovunque. E sa più di amarena, è buonissimo, mamma mia. Mamma mia, sa... Ah, è buonissimo, è buonissimo. Io l'ho tenuto, non l'ho ancora usato, perché prima quello che l'ho mostrato nel video. Non credo che userò tutto, però non vedo l'ora di usarlo, appunto. Perché da quando l'ho visto ho detto no, devo usare assolutamente mi sento tutta la pelle. e ne ho bisogno, cioè proprio... Ah, mi serve. Vabbè, quando vedete una cosa che vi piace, non vedete l'ora di usarla, ecco. Puoi capirmi, creatura. Tu puoi capirmi. E poi è un profumo veramente buono. Ho avuto anche questa crema per il corpo. Una mousse, una mousse vaniglia biologica e orchidea. Mousse per il corpo. Ed è... Allora io l'ho aperta per annusarla. Il profumo non mi entusiasma, perché sa un po' di plastica, però... Le darò sicuramente un'occasione. Sempre in tema gatti, perché le persone non sanno che mi piacciono i gatti. Come fa saperlo, già voglio dire. Mi è stato regalato questo port. Questa infusiera, si chiama così? Non lo so perché, non c'è scritto nulla. Comunque, si mettono gli infusi qua. Oltre, quello che vuoi. E si immerge nell'acqua. E qui c'è un piccolo gattino, non so se lo vedi, sì. Che fa da peso, no? Bellissimo. Io ne ho uno così. Però ne avevo uno così, poi non so che fine abbia fatto. Era di silicone ed era a forma di teschio. Era bellissimo. Sparito. Vabbè, lasciamo perdere. Altra cosa che tenevo lì per fare il video e che non vedevo l'ora di utilizzare. Questo Bob Socket con questa fantasia che è tipo wow, bellissimo. è super aesthetic e ci sono due mani tipo witcher con una luna, con questi colori galaxy aesthetic, aesthetic. Bellissimo, un Bob Socket, non vedo l'ora appunto di usarla. Questa scatolina holografica che contiene un altro Bob Socket che si può cambiare, si può cambiare e non c'è bisogno di staccarlo dalla piadesivo, ma da quello che ho capito si svita semplicemente e si può cambiare la fantasia. Ecco, e indovina un po' creatura qual è lo stile di questo Bob Socket. Gatti neri, sfondo viola, gatti neri, adoro, bellissimo, bellissimo. Quindi non so quali mettere perché tra i due mi piacciono entrambi, però penso che come prima cosa metterò quello aesthetic, questo qui, e poi metterò questo qui. Anche se è molto difficile la scelta, tu cosa ne pensi creatura? Poi mia cugina che fa queste creazioni qua ha una pagina Instagram dove le mostrano. Siccome a casa siamo tutti artisti lei fa queste creazioni in legno. L'anno scorso mi aveva regalato un anello, quest'anno mi ha regalato delle mollettine, vedi? Sono tagliate da legno di recupero, se non sbaglio, e dipinte da lei. Mi piacerebbe un giorno intervistarla in un mio video ASMR, se ti piacerebbe da fammelo sapere. Perché lei è un'artista. Secondo me sarebbe bello poterla intervistare. Questo è uno dei suoi bigliettini, c'è scritto Sognai talmente forte che mi uscì sangue dal naso. E dietro dice È una linea che colma lo spazio nel quale si crea e ricrea vita pieno e vuoto, si riempiono di essa diventando cambiamento. Questo progetto è il tentativo di rimettere in ciclo una realtà destinata al magero trasformatola in materia protagonista. In questo processo il legno diventa nuovamente utile nella sua forma mantenendo il racconto del suo vissuto in un'altra esperienza etica ed estetica. Lo spazio vuoto si trasforma, diviene gioiello, pregno di storia, sensibile, sovversivo, consapevole, legno che assorbe i passaggi del tempo, non muore. Io e te siamo sensibili all'acqua e alla bellezza, sono qui con conforto. Irene, mio cucino. Poi, insomma, ti lascio, se mi ricordo scrivo il link dell'info box, non è un placement, ovviamente, che era qui, già che già l'ho voluto leggere. Molto aesthetic poi, sei molto rilassante. E poi c'è questo sapone alla lavanda, che è un profumo buonissimo. Lo metterò nei cassetti della mia biancheria così sapranno di buon profumo. Perché ci sono queste saponette, queste qui, così non le utilizzo. Ho scritto Sostanza ipotetica, estremamente tenue e imponderabile, presente in ogni parte dell'universo, sia in quella occupata da materia ordinaria, sia nel vuoto. Sono qui, mi fa ridere perché è della marca Mart Mart d'Otto e si chiama Martissima, il pigiama. Quindi, ceppo, mi fa ridere. Come dici, sì, è ancora tutto inutilizzato perché aspetta di mostrarlo a te così finalmente potrò indossarlo. Tra l'altro si abbina un po' al make-up. E' super soffigioso, morbidoso e super pigiamoso. E' così, c'ho scritto Marta Marzotto, mi fa ridere, con questo fiocco tartan. E i pantaloni sono beige, dello stesso colore del fiocco che davanti non è una tuta, sono una maglietta, maniche lunghe e un paio di pantaloni divisi. Spinate in modo casuale. Ho ricevuto questo paio di pappucce, pappucce pantofoli, pappuccio e pappuccio e pappuccio, della marca Scout. Molto belle, sono belle, sono rosse e nere, sono tutte velozotte qui. Anche queste non vedo quella ora di indossarle, ma devo farci prima il video, non volevo mostrare se te ne ho usati. Poi ho ricevuto questo ornamento con pappo natale e di qua ci sono gli alberelli e ci sono anche degli alberi interni, una specie di stella natalizia che andrò a attaccare da qualche parte. Non lo so dove, ancora non ho deciso, secondo me serve una decorazione d'albero, ma io l'albero non ce l'ho. Sì, lo so che hai visto un video dove faccio un albero di Natale, ma non ero a casa mia. Questo porta-pranzo unicornoso per fare invidia a tutti i colleghi quando porterò il mio pranzo, i miei sandwich, al lavoro. Utilizzerò questo così farò invidia a tutti. Ho ricevuto una felpa bellissima dalla mia best friend, questa felpa di Nightmare Before Christmas che non vedo l'ora di indossare. E' bellissima. Cioè, è super bella, anche se è grigia, adoro. E anche meglio che sia grigia così, me la... Non so se posso metterla al lavoro, però magari qualche giorno, quei giorni in cui in ufficio siamo tipo al sabato, alla domenica, e che non c'è nessuno, a parte noi, e noi intendo io dove le persone dell'ufficio. Comunque mi piace perché ha il cappuccio super grande e morbido. Io adoro le felpe con il cappuccio largo, sono tipo le mie felpe preferite. È di Primark, l'ho detto adesso. E adesso apriamo insieme un regalo che mi ha spedito Frappo. Con scritto, alla mia divinità, invio questo dono da parte di una delle sue creature, del suo regno, da Francesco. Grazie mille Francesco, non mi aspettavo un regalo da una mia creatura, perché quest'anno non ho messo il link di Amazon, cioè, va bene lo stesso, insomma. Già è stato tanto per me un regalo che siamo riusciti a superare la soglia di 13.000, che ero da un botto, che non riuscivo ad arrivare ai 13.000. Cioè, eravamo arenati, invece adesso mi stavano crescendo il volo, cioè, è come se avessimo saltato uno step, una muretta, un muro, che non riuscivamo a saltare. Invece adesso saltandolo, abbiamo fatto una salita e adesso siamo in discesa, perché scendendo si stanno aggiungendo persone al regno. Dei fiori disidratati, belli. Questi sono bellissimi, perfetti da mettere dentro la resina. Adesso appena avrò tempo, ricomincerò anche a fare creazioni di resina, perché è uno stampo nuovo, bellissimo, che devo assolutamente fare. Perché voglio fare una creazione per me, una per la mia migliore amica, perché l'avevo preso proprio per noi. E poi anche per altre persone che conosco, però voi non conoscete, non ho portato sul canale. E comunque sono strabelli, ne avevo comprati anch'io, però appunto, proprio per fare questa nuova creazione. Ma utilizzerò anche questi. E dentro c'era anche questa pinzettina, giustamente per prendere i fiorellini senza rovinarli, penso. Tra l'altro questo sacchettino ha una texture fantastica. E alla fine poi mi sono dimenticato di mostrarti che ho ricevuto queste penne di Natale. Il piccolo aiutante di Papo Natale, che è l'elfo culo, che ero io, ti ricordi, su Instagram. E l'alberello di Natale, pensavo fossero matite, invece sono penne. Comunque spero che questo video ti abbia fatto rilassare, fammi sapere quale tra tutti i regali che ho ricevuto io, tu avresti voluto ricevere. Io ti auguro buonanotte, buonanotte, buon relax, ciao creatura.